Una lunga intervista, ripercorrendo quel che è successo dal 21 febbraio fino ai giorni della fase 3 e delle riaperture nel Veneto, che non si è mai fermato davvero di fronte al coronavirus. Luca Zaia parla dell'uomo e del governatore ai microfoni di Rete Veneta e Antena 3 in un'intervista di quasi mezz'ora che racchiude quattro mesi di lotte, speranze e difficoltà. Penso che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo. Scendere in campo significa affrontare il problema, essere qui a governarlo e soprattutto fare sintesi, perché poi ci vuole sempre qualcuno che prenda le decisioni e ovviamente si porti a casa la responsabilità. Il Presidente ha parole di gratitudine per Rete Veneta e Antena 3 e per il lavoro svolto dei giornalisti del gruppo Media Nord-Est nell'informare i Veneti durante le fasi dell'emergenza coronavirus. In un certo modo ringrazio voi, Antena 3 e Rete Veneta, perché comunque assieme alle altre televisioni, assieme agli altri giornalisti, avete dato modo di dare informazione. È ancora presto per fare un bilancio di quanto è avvenuto negli ultimi mesi in Veneto, ma l'emergenza è ancora in corso. Che questa partita del coronavirus è andata bene, fra virgolette, beh sì, ma poteva anche andare male, ma io ci ho messo la faccia del primo giorno, perché comunque è fondamentale che il capo ci metta la faccia. Mettendoci la faccia, Zaia si è presentato ogni giorno alla stampa fin dalle prime fasi di questa emergenza. Non trovavo corretto dargli in carico, che so, al mio direttore della sanità, piuttosto che a qualche altro dirigente, di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi può prendere le decisioni. E i Veneti hanno apprezzato, no? Non c'è nulla di pianificato, non c'è nulla di ragionato a tavolino. Io ho preso la cartellina il primo giorno e ho detto, siccome voi eravate qui, vi ricordate che vivevate qui, ho detto, scendo e parlo con i giornalisti. Da lì il secondo giorno, terzo, alla fine poi vi ho portato all'interno, perché ho detto, ma c'è brutto tempo, c'è freddo. E abbiamo iniziato. Però pensare che oggi la conferenza stampa sia diventato un appuntamento, mi fa piacere anche perché nella conferenza stampa non è che parliamo di cretinate, si parla di problemi di coronavirus, cerco di mantenere l'ambito sanitario.